ciao a tutti nascerà una storia d'amore con lui chi fosse interessato ad avere una risposta questa domanda segue il video nel frattempo iscritti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramaschi iscritti al nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link descrizione la mescolate le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali in carta 1 il gatto 2 la carta 3 e la carta 4 allora concentrati su questo lui del quale vuoi sapere se nascerà una storia d'amore prendi tutto il tempo che ti serve e questo parte il video può fare ripartire dopodiché scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché ho scelto la carta 1 diciamo che hai fortuna quindi puoi ottenere una situazione positiva può nascere una storia d'amore che ho scelto la carta 2 sarà poi se c'è un inizio ma sarà veramente lungo e anche estremamente difficoltoso che ho scelto la carta 3 beh avrai giustizia quindi otterrai diciamo la storia finalmente che desideri che scelto la carta 4 è una persona estremamente manipolativa e ambigua per cui storia d'amore come tu intendi no per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale iscriviti al nuovo canale felicità benessere di qui ti posto il link descrizione ciao a tutti